La Super Snake firmata Shelby migliora la Ford Shelby GT500 sia sotto il profilo estetico che in termini di potenza. Una muscle car super veloce non ha bisogno di altro. La pressione sul compressore Whipple è stata aumentata di 1,12 kg per centimetro quadrato, incrementando la potenza del vuoto da 5,4 litri e passando dai 550 cavalli a 6500 giri al minuto fino ai 750 cavalli a 6300 giri al minuto. Se il pilota riesce a sfruttare tutta la potenza extra del motore può percorrere 400 metri in 12 secondi raggiungendo una velocità di 193 km orari. Il cofano consiste in una gigantesca presa di ventilazione progettata per spingere quanta più aria possibile nel compressore. Anche il pronunciato splitter in fibra di carbonio è bene in vista e contribuisce a tenere incollati alla strada gli pneumatici anteriori quando si cerca di curvare in accelerazione.